Come può ripartire il nostro Paese? Può ripartire con riforme, alcune importanti sono state fatte, altre devono continuare a essere fatte, ma non le riforme imposte da fuori come nel recente passato, riforme che noi stessi dobbiamo progettare per avere una società più inclusiva, più equa, e che però distribuisca il lavoro su più persone. Abbiamo ancora dei tassi di occupazione troppo bassi, in parte portati dalla crisi, ma in realtà che vengono da elementi strutturali dell'economia e del welfare italiano e su questo dobbiamo incidere e continuare a incidere anche nei prossimi anni. Quali sono, secondo lei, le parole del futuro? Le parole del futuro sono quelle del recente passato che, come dire, dobbiamo continuare a ripetere, essenzialmente innovazione e inclusione, in una parola sola, innovazione sociale.